Ciao, sono Riccardo, uno studente della IUC e iscritto al terzo anno di Economia. Ciao, io sono Stefano, anche uno studente della IUC, ma sei iscritto al primo anno di Economia. Facciamo parte entrambi della squadra dell'Università della IUC, io sono portiere. Io sono attaccante. Le motivazioni per cui ho scelto questa università è perché è fortemente integrata nel tessuto imprenditoriale della zona e perché offre ottime opportunità e c'è molta vicinanza allo studente. Io invece ho ricevuto diversi pareri favorevoli sia dagli amici sia anche da esperti del settore e queste opinioni sono state poi confermate dalle buone impressioni che ho avuto subito all'Open Day quando ho potuto anche apprezzare la struttura, che mi ha ben impressionato. Io ho scelto la Facoltà di Economia perché sin da piccolo si è sempre stato affascinato dalle tematiche economiche sia dall'attualità che non. Io nel dettaglio ho scelto come specializzazione il management del Made in Italy perché credo che informazioni sulla struttura imprenditoriale italiana siano fondamentali sia per lavorare in Italia che anche all'estero. in quanto il Made in Italy è molto importante in tutto il mondo, è riconosciuto. Per quanto riguarda la vita universitaria è molto bene, si fanno conoscenze in fretta, si trovano ottimi compagni di studio e la vita universitaria è molto buona. La biblioteca è accogliente, si è molto serviti, c'è un ambiente molto pulito, molto preciso e quindi per quanto riguarda l'ambiente e conoscenze è ottimo. La squadra del LUC ci si trova bene, si fa un buon gruppo di amici. Anche io confermo queste impressioni, mi sono tratto sotto un ambiente gradevolissimo e imprezzisito anche dalle strutture extradidattiche, le varie biblioteche, le strutture sportive, e la squadra di calcio e anche le persone che frequentano l'Ateneo sono sicuramente molto simpatiche e buoni amici. La mia idea è quella di proseguire comunque il percorso studi all'estero e soprattutto per le opportunità che questa università offre a riguardo. Io riconfermo la sua tesi, sono al terzo anno, sono vicino a laurea e pensavo di affrontare una specialistica o un master o comunque un'esperienza lavorativa all'estero. Mi sono informato all'ufficio placement, sono stati molto cordiali, mi hanno dato informazioni ottime e le opportunità obiettivamente sono tutte.